Io mi sa che adesso ho tutti i materiali per fare il secondo teletrasporto, quindi io direi di mettere il primo tipo qui. Serve una chiave però. C'è qualcosa che assomiglia a una chiave? Non c'è nulla che assomiglia a una chiave. Esatto. E questo lo andremo a piazzare in un posto distante. Allora, in teoria posso usare questi qui che non hanno un uso per metterli. Ecco là che è esploso adesso. Come chi? Esatto. Quindi io me ne porto dietro un altro e noi possiamo andarcene a cercare sta cazzo di giungla. Aspetta, aspetta, dimmi che ci sono facce qui. E anche una. Vita di merda. A giudicare dalla minimappa, la parte che ho esplorato di meno è verso praticamente nord-est di qui, quindi andrei di qui. Mare abbiamo cool e anche vicino. E' il motivo per cui questa arpia è incazzata con me? E' il motivo per cui sono handicappato e non sto riuscendo ad attaccarla. Madonna, che cazzo succede che non riesco ad attaccarla? Mh, merda. Un'altra tomba! A sto punto le analizzo prima così. Una carota d'oro, attenzione! Una testa di zombie? Ok, ok, ci può stare. Appena trovo qualcosa da buttarle dentro, della lava o altro. Me ne libero. Allora, qua a quanto pare ci sono delle montagne. Eeeh, che caverna è questa? Che figata! Uh, formiche. Cioè, devo guardare bene qui perché appunto non ho esplorato. Potrebbero esserci cose. Una tombina! Villager corpse! Un'ascia di ferro. Di sibona, di ferro. In chiaro man manco se leggi, eh. D'oro. Io ho paura che quelle zucche lì nascondano i ragni quelli di... i pumpkin. Altra tomba? Questa ce l'aveva poco. C'è poco cibo invece io. E sta scendendo la notte. Giorno 81 che sono in cammino. È scesa la notte. Ma non si vede ancora ancora alcun albero. O alcun deserto. Le ricerche proseguono. Il cibo sta scarseggiando. E io non so più dove mettere la roba. Nonostante abbia craftato uno zaino apposto per questi evenienzi. Un altro è là. Madonna. Non la son vista brutta. Ma è calda questa. Perché c'ha lo zaino questo schereto? Ahia! Oh! Eeeh! Che cristo! Chi è sta novità? Oh! Eeeh! Che cazzo è? Ma che roba? Mi serve, mi serve, mi serve il cibo. Allora io me ne stavo andando per la mia via verso nord. Però sono stato tratto da delle luci qui. Alla davanti. Non so se è lava o cosa. Cioè è un suicidio. Sto finendo veramente il cibo. Non so se fosse stato... fosse più facile trovarla. Alla invece che cazzo di strada che abbiamo fatto. Per un attimo ho sperato che quegli alberi alti fossero alberi di una giungla. E invece... L'ennesima cazzo di montagna. Dopo qua a trovare un bioma, guarda, che non sia montagna o pianura, è impossibile. C'è la palude ogni tanto. C'è la palude ogni tanto. Fai a metà della minimappa. No, no, eh. Non c'è verso. Dio cristo. Non c'è un cazzo, non c'è. Un cazzo non c'è. Ah, what? Aspè, aspè, aspè. Ho trovato il villaggio. Bitches! Eh, ho capito, non è la giungla. Qui c'è qua di nemico? Ah, la vespa. Via, via, via. Chissà che troverò qua. Però prima fammi diggare sta cosa. Tanto vediamo se mi scambiano del cacao questi. Tu. 17 carbone per uno smeraldo. Però c'è degli scambi di merda. Tu, chi c'è qua dentro? Nessuno. Vai, esci. Ti do la libertà. 36 carne di zombie per uno smeraldo. No. Meh. Scendo da scambi di merda vedo io, eh. 40 carne di zombie. Su, su, potete fare meglio, raga. Potete fare meglio, vi dico. Oh, ma sono tutti uguali. Guarda che cazzo l'è. Questa non posso nemmeno scambiarci. E ti chi sei? Undertaker. Per 9 smeraldi mi dà delle teste, ok. Del becchino, praticamente. Per 10 di cuoio mi dà queste. Se no, dei leather pants. Anche no. Posso diggarle. Sagra, signori. E direi che possiamo anche metterlo qui, il... Il teletrasporto. Poi lo rompiamo. Ti devo dire. Alla minimappa cosa si vede attorno? Vai, ci potrebbe essere anche un deserto verso in qua. Sì sì, io mi metto il teleport qui, lo faccio... Dove lo faccio? Dentro la chiesa. No, lo faccio un attimo qui staccato. Oh, vai. Perché le galline prendono danno? Perché sono sceme, ecco il perché. Vai, torniamo indietro. Iniziamo a tirar via tutte le tombe che ci sono. Vai, possiamo anche farci lo spawner di zombie, mi sa, eh. Trenta carne. Eh, nulla. Scambiano tutti un casino di carne di zombie. Aspecia il bibliotecario. Tu vuoi della carta, eh? Per lo smeraldo. Ti accontento subito. Per lo smeraldo.